Eh? Come va? Chi parla? Ma come chi parla? Oddio, sono Damiano Garciuso! Ma ha sbagliato l'umore, l'ha benedetto lei! Ma come non ti ricordi? Senta, io non conosco nessuno che bestemmia. Ma come nessuno che bestemmia? Ma lei con chi vuol parlare? Ma con Lada, Lada Vettorazzo. E lei chi è? Damiano sono, chi vuol... Damiano, non ti ricordi? Ma io non sono... Ma se ne conosciuta la del Sirio, quando sei andata... a portare le valigie su, che ero per strancio in caso delle valigie. Ma non ti ricordi? Senta. Le raccolte? Ma io non mi chiamo Lada, lei sta sbagliando... Lada, Lada! Ma lei da chi? Ma come lei da Vettorazzo, ma chi parla, scusi? Io parlo, io sono Lada Vettorazzo. E allora? Ecco, ma lei chi è? Ma come chi è? Damiano Garciuso. Ma io non conosco... E te ne riterò un bel muso! Ma lei è un... ma è un disgraziato. Ma come un disgraziato? Ma... Mannaggia, ma si è raccolta le valigie quella volta che sono cadute davanti al Persirio? Che vuoi me neanche ringraziato? Ma lei è ubriaco. Mi ha dato anche l'indirizzo, ma non si ricorda? Ma senta, non la conosco neanche, non so nemmeno chi è lei. Ma come chi è? Non ci siamo conosciuti notte, non si ricorda, signora. Ma dove? Ma... Senta... Ma donna infantile, non si ricorda! Senta, io metto giù il telefono perché guardi... Ha sbagliato... Ma non l'ho sbagliato, signora, ma... ma guarda che razza educazione, ma... Ma senta, parli piano che non è il caso di parli... di arrabbiarsi. Ma è lei che grida, signora, è lei! Ma insomma, cosa vuole? Mi dica cosa vuole. Ma vengo a trovarti, Leda, non ti ricordi? Vengo a trovarti. Ma lei è matto! Vengo stasera a trovarti, Leda, per favore! Senta... Ma... ma non ti ricordi? Ma guarda che razza educazione! Senta, parli, metto giù il telefono perché io non la conosco, non so nemmeno chi è lei. Ma io sono Damiano. Ma che non conosco nemmeno... ma guardi, non conosco... Senta, metto giù.